Con questo gol realizzato da Sanguin con la collaborazione involontaria di Ranieri, il Cesena ha battuto la San Benedettese per 1-0. Gabriele Pasini ci ha riferito di un incontro vibrante tra due situazioni in piena salute, un incontro che il Cesena ha comunque meritato di aggiudicarsi in virtù di una pressione costante che si è concretizzata a 4 minuti dalla conclusione. Prima del gol del Cesena ci sono state parecchie emozioni, come vi mostrano le immagini, con la traversa colpita dal Cesenate Agostini, il palo di Ginelli della San Benedettese e ancora una traversa di Gibellini di testa su angolo di Patrizio Sala. Insomma, una gran bella partita.